Buongiorno a tutti voi di Radio Italiana in Florida, un abbraccio grande a Fabrizio e grazie per questo collegamento da Milano, Italia, sono Ketty Carraffa e sì, vi volevo raccontare ciò che è accaduto settimana scorsa, nel senso che ho realizzato l'evento che ho presentato, che ho avuto l'occasione di presentarvi settimana scorsa, l'evento Le donne acqua nel deserto, che è stato veramente veramente un grande successo. È stato un evento quindi dedicato al 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ho avuto veramente grandissimo riscontro, tuttora c'è chi ne parla perché è stato veramente molto molto gradito, insomma io ho avuto anche l'opportunità e la bellissima occasione di avere la console del Messico in Italia, Marisela Morales, che tra l'altro proprio in questi giorni ha finito il suo mandato e quindi tornerà in Italia. Ho avuto modo appunto di darle il riconoscimento che ho creato appositamente per questo incontro, che è un'opera del maestro Giuliano Grittini, che è stato il fotografo personale di Alda Merini, la grande poetessa. E con lei insomma ho dato i premi a diverse personalità in Italia, ho dato il premio alla presidente di Italia Madre Irene Pivetti e poi insomma a un avvocato, a Fiorella Cerchiara dell'Associazione per i diritti umani e la tolleranza ONLUS, a Aldo De Fabritis, che è il presidente del condominio dell'arte, che sta facendo un bellissimo progetto dal titolo modello italiano e infatti il 14 dicembre sarò proprio a Itri, in provincia di Latina, per un'altra serata importante dove appunto portare avanti questo progetto del Made in Italy. Insomma poi vi racconterò magari se ne avrò l'occasione. Ho premiato anche il critico d'arte Giorgio Gledorio Grasso, Fabrizio Zampetti, che è quindi un grande imprenditore, imprenditore immobiliarista molto molto illuminato, Massimo Restivo di un'associazione United Planet Foundation che è legata all'ONU e poi insomma ho premiato anche la giornalista Silvana Giacobini e il conduttore televisivo Valerio Merola. Insomma devo dire che è stata veramente una bellissima giornata in regione Lombardia e questa è una location fantastica perché la regione comunque è la regione nuova, diciamo è veramente una location meravigliosa, c'era tantissima gente, ho fatto anche la presentazione dei miei progetti, progetti del 2019, che riguardano proprio progetti culturali e sociali. C'è un corso, un corso di cinema diritti, c'è anche la possibilità di ascoltare la musica, la musica dedicata alle donne di tutti i continenti e questo è un progetto che porterò avanti nelle scuole e non solo. Insomma è stato veramente un evento molto importante perché è stato un modo ancora per riflettere su questo gravissimo fenomeno che in Italia purtroppo siamo solo secondi al Messico però è stato un momento appunto di riflessione molto interessante. Io vi ringrazio ancora per avermi ascoltata, spero di ritrovarvi ancora prossimamente, quindi un abbraccio a Fabrizio e a tutti voi di Radio Italiana in Florida e vi presenterò prossimamente proprio i prossimi eventi, uno è il 14 di dicembre e un altro importante sarà il 13, quindi il giorno prima, dove porterò la canzone Grazie a Sala Vida, che è la cover che ho fatto appunto, in uno spettacolo di beneficenza per l'associazione che si occupa di Senza Tetto a Milano, che si chiama Protetto e lì porterò proprio la mia canzone, la cover di Grazie a Sala Vida. Ancora un grazie a voi, Radio Italiana in Florida, un abbraccio grande e insomma tutto prosegue, cerchiamo di rendere la vita migliore anche delle persone che purtroppo non hanno avuto la fortuna di avere dei momenti buoni, insomma questo è un po' il messaggio. Grazie a voi e insomma grazie a Sala Vida che è poi la mia sigla appunto del progetto contro la violenza sulle donne. Ciao!